Musica 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 Sì, è vero! Sì, è vero! Sì, è vero! Abbiamo facendo il video clip di... RASHPLASH Il tema Dejame, e noi speriamo, abbiamo un montone di onde si... Ho, 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 ho! Signor? Buonasera, sono io e la dritta RASHPLASH è un tema fantastico, qua! RASHPLASH! La violenza, la agresione! RASHPLASH! Dejame, para todos ustedes! Un teletubi! Un teletubi! Un teletubi! Un teletubi! Un teletubi! Un teletubi! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti